Essere sostenibile significa adottare uno stile di vita consapevole e rispettoso nei confronti di noi stessi e di chi ci circonda. Vivere in modo sostenibile ci aiuta ad avere cura di ciò che abbiamo e a incitare le generazioni future a farlo. E' meglio fare la raccolta differenziata perché non vedi cosa sta succedendo con le cinque isole di plastica? Se si continua così ci sarà un'unica grande isola di plastica, la Terra! Ehi tu, ti vedo eh? Perché non chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti e mentre ti insaponi nella doccia? Sapevi che in media un americano consuma all'anno un equivalente di 10 piscine olimpioniche? Ovviamente però per una persona sono necessari il minimo 50 litri d'acqua al giorno, ma in Africa non hanno la possibilità di utilizzarne neanche 20, anche e soprattutto a causa del nostro spreco. Mi raccomando, spegni la luce quando ne hai bisogno, altrimenti farai del male a te e al futuro della Terra. Prova ad usare le lampadine a LED con un taglio dei costi dell'80% e rispetto alle lampadine a incandescenza ridurrai le emissioni di CO2 nell'atmosfera e poi risparmieresti anche sulle bollette. Ma non è fantastico? Stancante guidare? Non è meglio fare una passeggiata o un giretto in bici? Così avrai la possibilità di respirare aria fresca e pulita. Ma se a camminare non ce la fai e la strada troppo lunga da fare avrai, un mezzo di trasporto pubblico prenderai e me ne inquinerai. Tu, sì, proprio tu, metti delle piante in casa per migliorare l'aria che respiri, ma stai attento a comprarle con l'imballaggio riciclato. Ma poi, non è più bello vedere una casa piena di fieri colorati? Se una spesa sostenibile vuoi fare, più carta e meno plastica dovrai comprare. Non è meglio usare le scale piuttosto che l'ascensore? Così, intanto non sprechi energia e in più fai un po' di movimento. Fare movimento fa sempre bene! Sappiamo che smettere di fumare è difficile, ma provaci perché fumare fa male sia a te che all'ambiente. Grazie per averci seguiti e mi raccomando, segui sempre i nostri consigli.